Bene e benvenuto in studio sport dove qui abbiamo in collegamento il nostro giornalista Francesco Pica che ci dirà sulle novità della Nazionale. Sì, allora abbiamo le ultime formazioni per l'Italia, in Porta c'è Buffon in difesa a quattro con Zaccardo, Barzagli, Bonera e forse Marco Materazzi, centrocampo con Gattuso e... Grazie collega, la linea di nuovo a Roma, per un altro collega sempre Francesco che ci dice la formazione, questi sono gli undici azzurri che giocheranno stasera con la Polonia, Buffon Zaccardo, Bonera, Barzagli e Grosso, centrocampo con Gattuso, Pirlo, Ambrosini e Camoranesi e in attacco c'è spazio per Del Piede e con Iaquille. La Polonia, formazione tipo, Dudek e infortunato solo Madziak, poi è la formazione di Dolan. Grazie per la formazione, studio sport finisce qui, buonanotte a tutti. Grazie. 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 Grazie.